Amici, Mr. Gorn, Italia Metal Hunter, grande emozione, nuovo terreno, questo qua è il campo del falò, sempre con corezzo, campo enorme, permesso anche su questo terreno, campo del falò perché ogni anno, come tradizione contadina, viene fatto un falò a Sant'Antonio per favorire un buon raccolto, e come è bello che si portano avanti queste tradizioni, e niente, quindi adesso il campo enorme, guardate, questo qua è un piccolo falò, magari metto anche la foto del campo, ho preso la satellite, questo qua è un piccolo pezzo di alberi, poi va in tutto intorno qua, in fianco alla strada, fino in fondo là, dove ci sono le recensioni così, poi va tutto di qua, fino al boschetto di lì, e qua c'è la stradina e tutto questo pezzo qua, il campo enorme, che è successo? Eccomi qua, il campo enorme e vediamo di vedere se troviamo subito qualcosa qua, il punterei a andare qua, intorno a qua, intorno a questo pezzo di, dove c'erano gli alberi, che magari qua dove c'erano gli alberi, erano, questo albero qua che enorme, bellissimo, dove c'erano i contadini, che magari potevano dopo aver lavorato il campo, si mettevano qua, e ovviamente dove c'è la presenza di persone, dove c'era passaggio di persone, si possono trovare delle monete, l'obiettivo di oggi è una moneta, speriamo di trovarla, e niente, quindi l'attrezzatura è sempre la stessa, il campo è stato arato, però non è stato ancora seminato, quindi ottimo dai, ci vediamo nel campo amici, grazie a te, tutti per la visione, e speriamo di divertirci, come sempre. Grande! Grazie a tutti! 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 un sigillo un sigillo un sigillo del liquore un sigillo 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 un signo un sigillo un sigillo un sigillo un sigillo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che cazzo? Tappo della birra. Una distretta profondità. Andiamo qua, stiamo avvicinando una stradina di passaggio. Il campo. Presenta molta spazzatura. Molta spazzatura. Quindi... Che cazzo? Un cardino di una porta. Qualcosa interessante dopo un'oretta. Che sono qua. Vediamo se affiancare questa strada mi porta bene. Ma questa qua strada di passaggio. Questa superficie. Questa. Vediamo. che cazzo è questa roba. Questa. 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 Grazie a tutti. Altro attrezzo è un altro item agricolo, un gancio o qualcosa. Grazie a tutti. Ok. Washer, mega washer, big washer. Qualche attrezzo agricolo sicuramente è perso. Grazie a tutti. Guardala! 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 Non si è washer! Guardala! 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 Pazzo! Cazzo! Cazzo! Guardala! 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 e che cazzo figa la moneta abbastanza rovinata la forma c'è e allora cazzo finalmente una moneta figa amici finalmente una moneta dopo un'ora e mezza eccola dai facciamo la foto cazzo altezza dell'acquedotto adesso ho trovato questa moneta qua che non riesco a vedere cos'è adesso stiamo qua in zona perché qua c'era il passaggio di persone o qua c'era una stradina che andava là o è stata persa qua vedi che c'è anche la stradina qua adesso sta qua chissà che una stradina anche vecchia ok dai che cazzo figa queste sì che mi danno benzina prenderà avanti figa vaffanculo e andiamo dai adesso cosa facciamo ho trovato la moneta qua ho sentito parecchia altra roba qua magari andava il terreno andava qua qua c'è la stradina che andava di qua che poi dopo è un attimo ci sono le stradine vecchie se tu questa stradina passi il trattore basta il trattore solitamente potente con l'aratro te la tira via subito un'altra stradina che andava il sole ma dai ma no ma che bella ma no la pallina da moschetto wow una palla da moschetto no che roba che palla da moschetto wow la prima che trovo cazzo che roba cazzo che roba cazzo che roba pallina da moschetto mamma mia che roba va non ci posso credere amici spettacolo la prima volta guarda ma che biglia pallina da moschetto ma che storia è ma che roba è bella pesante di perdere compirla per fare la foto spettacolo cazzo dai questa via fa è buona quella parte lì del bosco all'esterno sempre entrando nel campo ho trovato solo spazzatura ma qua c'è stata fuori la moneta la palla qua di moschetto resuzie aggiornate Grazie a tutti 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 Grazie a tutti